Ciao a tutti ragazzi, sono Diego, oggi sono a un raduno fighissimo, si chiama Bugaloo, viene organizzato in un paesino che si chiama Tornaco, in provincia di Novara, e la cosa figa sono questi, ovvero i mezzi Volkswagen, anche quelli vecchi, tipo il maggiolino, il maggiolone, quel furgoncino lì, quel minivan, adesso ci faremo un bel giro a vedere un po' il tutto. Vedete questo ad esempio è stato trasformato in un minicamper fighissimo, si vede la minicucinetta, qua, vedete che figata, il lettino, guardate gli interni che figata, adesso vi faccio vedere che figata questa, specialmente i tappetini, che sono proprio di lusso, guardate che figata i tappetini, comodissimi, specialmente da lavare, questa che figata sembra la Dumbaggy, quasi quella di Pat Spencer, non proprio però. Ecco, questo ce l'avevo anch'io, però io ce l'avevo sul server di GTRT, quindi virtuale, questo è vero eh. Tavola da surf, proprio per andare sulle spiagge di Los Santos. Guardate che figata il faro centrale sopra, ma non è una figata. Una radio, c'è un SM, sotto però hanno barato, c'è quello con l'USB. Sì, nella prima mia città ha il porto, c'è quello con l'UZB. Sì, nella prima città ha il porto, però c'è quello con l'UZB. E' una novità che si fa, ma l'UZB. Sì, la prima città ha il porto, invece io mi creo che è un porto, Questa è un porto, 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 è un porto. Dovante. Se vede, hai già visto lo spado, vedi? ma guardate questa carrozzeria che figata adesso ve la faccio vedere da vicino sembra un pochino arruccinita consumata qua siamo nella zona campamento perché c'è gente che qua da due giorni con le tende e mi ero promesso di farlo anch'io ma non mi sono accorto mi sono accorto troppo in retardo magari l'anno prossimo ci verrò con la tenda tanto c'ho la tenda gigante tutta l'attrezzatura di campeggio ci verrò con i miei figli e gli amici figatissima il resto di stare qua una notte tutti in campeggio figata la tenda così così non c'è umidità non è un cazzo che ti rompe le balle abbiamo finito questo piccolo giretto e vediamo l'anno prossimo ci tornerò io con la tenda ciao a tutti per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento